dottore da questo scenario che abbiamo descritto in questa prima parte dell'intervista venendo a quello che è uno dei temi di cui lei si è occupato che la lotta alla mafia da Trento poi le va a Trapani ma da questo quadro emerge che di fatto la mafia non è quel livello alto che determina il suo stesso agire ma in realtà viene etero diretta da questi poteri per il raggiungimento di obiettivi che non sono prettamente finalizzati all'aspetto economico ma che hanno un ruolo anche geopolitico quindi la mafia di fatto da questa lettura è uno strumento è un braccio armato usato per certi tipi di lavori questo capisco sì certamente questa questa lettura per me fu abbastanza chiara immediatamente perché da una parte quando nel 1985 presi possesso a Trapani sì io ero mosso da una contiguità di indagini che mi avevano messo in contatto con Ciaccio Montalto e con i magistrati di Palermo quindi ci stava già una indicazione che per me rappresentava il filone al quale mi avrei potuto riagganciare in Sicilia per riprendere da capo ciò che facevo a Trento ma io l'ho percepita subito nel momento in cui sono andato a Trapani in quanto le indagini oggettivamente presenti nei fascicoli di Trapani erano in gran parte le medesime che erano presenti a Trento e quindi quella visione di carattere invece territoriale che incentra tutte le responsabilità sotto un profilo di direzione mafiosa venivano già allora ad essere ridimensionate nel momento in cui come già peraltro avevo compreso con Giovanni Falcone ci eravamo resi conto perché i laboratori siciliani erano forniti dalla organizzazione della quale mi occupavo a Trento cioè si parlava della stessa cosa con la differenza che l'organizzazione totale riguardava l'assetto della distribuzione degli stupefacenti e delle armi a livello planetario il settore che presentava una convergenza notevole importante e diciamo personale sotto il profilo di noi magistrati inquirenti era quella che riguardava l'ambito dei traffici della droga e degli aspetti economici collegati ma che erano collegati molto parzialmente in Sicilia perché poi subito entravano in gioco i rapporti in Svizzera e in Svizzera da una parte con gli Stati Uniti ma dall'altra guardando anche al passato con l'intero pianeta perché ci si ricollegava ad altri tipi di rapporti con gli arabi con i servizi segreti le banche gestite dei servizi segreti che si sviluppano tutte in quegli anni e cioè lo scandalo del Nugand and Bank della BCCI internazionale della BNL di Atlanta sono tre scandali bancari che sono emersi nell'ottanta e poi all'inizio del 90 91 ma e prima ancora del Banco Ambrosiano che rappresentano gli aspetti di carattere economico che hanno affiancato tutti i rapporti tutti i rapporti di carattere economico e finanziario che hanno costituito lo strumento per governare il mondo perché il mondo si governa non è che si governa solo e semplicemente o con le alleanze formali politiche ma con quelle che sono di carattere economico e finanziario e quindi insomma era ben chiaro in noi magistrati che noi operavamo su dei settori molto limitati perché lo svolgere le indagini a livello territoriale su tutti questi settori incontra il limite del frazionamento delle attività nelle quali ci si rende conto che è piccolissimo il ruolo svolto dal magistrato attraverso il suo potere di accertamento perché subito si sviluppa a un livello superiore e quindi se viene a mancare questa lettura di carattere diciamo così più onnicomprensivo e ci si sofferma ancora a dire è sicilia ed è mafia quello che avviene in sicilia è camorra o andrangheta o sacra corona unita quella che viene ma noi non ne verremo mai fuori perché perché le attività non sono mai state né oggi ma nemmeno negli anni del dopoguerra del 50 nel 60 negli anni 70 sono stati legati ai territori nei quali si sono svolti i fatti i fatti si sono svolti per motivi di occasionalità perché o certi operatori certi magistrati hanno smosso le acque in un luogo nell'altro e quindi hanno dovuto essere eliminati o si è molto spesso molto molto spesso voluto incentrare l'attenzione in particolare sulla sicilia e sulla mafia perché per ragioni storiche è la zona che ha costituito il maggiore collegamento dopo la fine della seconda guerra mondiale tra le componenti occulte degli Stati Uniti ma non solo diciamo anglosassoni con la criminalità italiana ma nel concetto stai dietro cioè la zona più protetta ma più protetta non solo perché più lontana ma più protetta anche perché c'era il capo respiatorio e conseguentemente era più facile scaricare la responsabilità sull'apparente soggetto che aveva il controllo territoriale a livello basso per coprire invece le attività direttive che avevano i due livelli più elevati il primo dei servizi il primo dei servizi ma il secondo è questo è il ritorno al dunque che è l'ultima chiave di lettura che ho compreso è quella mazzonica perché noi ci accorgiamo che questi fenomeni non sono assolutamente comprensibili con una chiave di lettura temporanea è locale limitata al dopo guerra cioè per poter comprendere la dinamica della nostra storia entro la quale si collocano le varie componenti si deve risalire a dei concetti diversi che sono rappresentati dalle famiglie dalle dinastie dalle oligarchie dalle sinarchie e da poteri occulti questi veramente occulti perché non sono mai stati oggetto di indagine anche perché è molto difficile perché va al di là di tutti i confini territoriali e trova le proprie origini anche millenarie cioè le famiglie operanti se vogliamo esaminare l'Italia ma non è solo l'Italia e dobbiamo veramente andare molto indietro perché su questo argomento poi facciamo un discorso in relazione anche ai libri che lei ha scritto vorrei terminare questa disamina lunga della struttura mondiale del potere rifocalizzando un attimo il discorso che ha fatto lei adesso sulla lettura che è stata difficile da accettare anche da parte della magistratura che non accettava almeno questa è la mia percezione che ci fosse un livello più alto della mafia è stato un problema adesso non so secondo lei quanto Giovanni Falcone avesse capito questo però per la nostra storia perlomeno la nostra storia democratica già il fatto che a Portella della Ginestra il primo maggio del 47 vengano trovati dei bossoli americani è già una traccia importante che in realtà quello che ci veniva raccontato apparentemente ma in realtà non era vero cioè era una messa in scena era una messa in scena dove già esisteva non solo la mano di questo potere che realizza una messa in scena e che di fatto ha reso incompiuta la stessa democrazia italiana dirigendola con azioni avversive come le Brigate Rose o altre o stragi di vario genere e tipo ma al di sopra di questo livello che è una messa in scena e che comunque in certi settori è già conosciuto lei soprattutto negli ultimi tre libri pubblicati scopre questo livello altissimo di queste dinastie, di questi linguaggi arcani che addirittura si perdono nella notte dei tempi ecco ci racconti ma guardi intanto comunque il libro nel quale lei focalizza questo fatto è La Bestia per la prima volta sì, lo individuo per la prima volta io per la verità ritengo che non siano stati in molti, parlo dei magistrati, che hanno percepito queste visioni d'insieme perché purtroppo una specifica caratteristica dell'uomo è quella di essere limitato alla conoscenza dell'ambito territoriale a sé vicino e non dobbiamo dimenticare che anche se successivamente alle stragi del 90 molti magistrati di altre zone d'italia hanno acquisito consuetudini di spostarsi in Sicilia per trascorrere determinate essenziali parti della propria esperienza lavorativa spesso quella più giovanile e quindi anche diciamo più difficile da esercitare anche per mancata cognizione personale dei fatti precedenti ecco dicevo così per grande parte della nostra storia la Sicilia e i fenomeni siciliani sono stati conosciuti le magistrati siciliani e come a Trento si crede che Trento sia il centro del mondo e si legge con la chiave di lettura del Trentino è una zona tranquilla e allora ci si stupisce che se dentro il Trentino possono rinvenirsi degli affari di mafia, di mafiosi o di meridionali che invece erano ben presenti fin dal passato perché solo con il soggiorno obbligato erano presenti in tutto il nord quindi diciamo così ecco però in particolare per la Sicilia la Sicilia purtroppo ha un po' peccato in questo cioè vi è stato un errore di lettura da parte dell'esterno e un errore di lettura anche da parte dell'interno è stata nota in particolare dagli anni 80, dall'84 insomma da quando ha incominciato a parlare Buscetta la organizzazione della mafia prima abbastanza intuita ma negata dalla realtà cioè ricordiamoci che io quando sono stato giudice a Trento, giudice istruttore a Trento era il 1980, non esisteva ancora il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso la mafia non esisteva nel codice, bisognava imputare i soggetti di reati comuni non esisteva, è esistita solo dopo quella caratterizzazione esterna data dalla uccisione del generale dalla chiesa che allora ci si è resi conto che avveniva qualcosa in Sicilia che riguardava delle altre cose è stata quella l'occasione, forse la prima occasione però ci dovevano anche essere anche altri casi che avrebbero dovuto far riflettere in passato come Mattei insomma ci sono determinati casi che avrebbero dovuto suggerire queste analisi più complesse e non per niente a Trapani c'era stato quel famoso rapporto di Peri che aveva tentato di leggere episodi del nord, episodi del sud in una chiave comune però hanno sempre incontrato una grandissima ostilità e anche Giovanni Falcone, Paolo Borsellini, i magistrati chinici magistrati diciamo così che hanno operato in quel periodo in cui le indagini potevano essere fatte con una certa calma perché esisteva quell'altro tipo di processo l'ufficio istruzione consentiva dei macro accertamenti perché si potevano sviluppare per periodi molto lunghi e quindi con raccolta di grosse esperienze ecco però non c'è stato il tempo di adeguarsi mai all'effettiva realtà che invece è andata sempre molto più avanti rispetto ai fatti compiuti dalla magistratura quindi anche quando Giovanni Falcone ha anche lui iniziato a svolgere e a compiere viaggi ed altri istruttori in Thailandia, in paesi degli Stati Uniti, delle Americhe perché lì erano presenti numerosi soggetti che erano implicati nei vari traffici la percezione della extraterritorialità rispetto alla Sicilia nel fenomeno della mafia senza dubbio ha fatto comprendere a Giovanni Falcone il ruolo essenziale svolto da tutte quelle operazioni di carattere finanziario che non rientravano nelle cognizioni nelle competenze e nelle capacità dei massimi responsabili mafiosi che venivano ritenuti capi della mafia cioè era percepibile che vi fossero delle altre componenti che erano a mio parere per forza sopraordinate perché non è che puoi raccogliere nel traffici di droga delle cifre enormi se poi non hai lo strumento finanziario, economico, internazionale che non è mai stato nelle cognizioni e competenze del più elevato mafioso quindi diciamo così è stato come mettersi una benda davanti agli occhi oppure un procedere per passi e cioè dire ma io oggi in origine nemmeno si conosceva la mafia e quindi intanto svolgo il primo passo che è quello di conoscere il livello più basso e poi piano piano quello più alto io sono materialmente sicuro che anche semplicemente il venire a conoscenza di un altro segreto di stato del quale non si parla assolutamente che è quello che riguarda la gestione del pentito Buscetta rivelerebbe un'altra realtà perché Buscetta parlò in Italia con Giovanni Falconi e incominciò a spiegare la mafia in Sicilia con un patto di stato e doveva parlare entro determinati limiti e gli venne concesso di usufruire di determinati vantaggi perché non parlasse di altri aspetti che sono ad esempio quelli che hanno riguardato gli Stati Uniti cioè praticamente noi non abbiamo la ricostruzione della nostra storia noi abbiamo delle ricostruzioni che ci hanno indirizzato per farci ritenere e comprendere che ciò che è avvenuto in Sicilia e ciò che in gran parte è avvenuto in Italia è stato diretto dalla mafia senza tenere conto che in questa visione siamo stati eterodiretti cioè siamo stati indirizzati proprio da chi aveva nella stessa Sicilia aveva i radar e gli strumenti e gli uomini degli apparati che erano i primi a controllare esattamente le cose di Sicilia che facevano la mafia solo che non venivano arrestati perché erano considerati pedoni pedoni di una manovra che è servita a dare una spiegazione semplice ai fatti che sono avvenuti ma non corrispondente alla realtà nascondendo anzi le realtà che purtroppo poi a distanza di anni riesce sempre più difficile ricomporre perché subentrano le prescrizioni subentrano tutti quei aspetti anche di carattere processuale che rendono più difficile la ricostruzione della realtà ecco lei il dottore come già ho detto dalla bestia alle sue ultime due opere che sono l'Aurora e X-Day di fatto mette le mani in un ambiente che a livello giudiziario è praticamente sconosciuto mai trattato prima a questo livello quindi stiamo parlando di una componente ultra segreta massonica una massoneria alta che ha dei propri linguaggi dei propri codici e che in una certa quota parte sembra quasi un movimento spirituale nel senso negativo luciferico che ha un grande progetto mondialista che scavalca e si promana lungo i secoli e che è la longa manus che di fatto è la cupola principale che poi organizza e sfrutta questi vari livelli fino ad arrivare a quelli più bassi mafiosi quindi lei ne ha scoperto buona parte o comunque una parte degli arcani, dei linguaggi è stato nei luoghi e tutto questo discorso lei lo illustra partendo dal libro la bestia per quanto nel quarto livello già aveva intuito delle cose però con la bestia l'Aurora e X-Day che saranno tra poco a disposizione del grande pubblico lei di fatto entra profondamente all'interno di questo mondo dove troviamo il Rosa Croce dove troviamo nomi come il Conte di Cagliostro dove troviamo tutta una pletora di situazioni o video eccetera eccetera ecco cosa ha rappresentato che significato ha e quali sono gli aspetti pregnanti di questa sua scoperta diciamo che l'aspetto che a mio parere è più interessante è il fatto che la disvelazione di questa componente occulta che era stata additata tra gli anni 70 e gli anni 80 con la scoperta della P2 si era fermata all'aspetto puramente formale dell'iscrizione dell'appartenenza di un certo numero di soggetti che si sapeva peraltro fosse anche limitato gli aspetti puramente dell'appartenenza alla struttura cioè come se il fatto grave fosse l'appartenenza a un'associazione segreta e non fosse proprio oggetto di possibile indagine ciò che tenesse insieme la struttura segreta e cioè il progetto della massoneria che come nodo si è sempre posto come antagonista rispetto alla Chiesa ecco questa diciamo così è il primo aspetto che è balzato alla mia attenzione perché io ebbi come ho già spiegato già nell'inchiesta di Trento sono numerose occasioni di occuparmi dell'aspetto della massoneria che però non le potete coltivare per essere stato bloccato in altri aspetti però percepì chiaramente il collegamento tra la organizzazione al massimo livello e quindi anche a un livello superiore a quello che riguardava l'espletamento dei vari traffici l'avevo intuito e scoperto negli agganci tra i traffici di droga, armi e fatti di rilievo internazionale nel momento in cui esattamente in quel periodo iniziale della mia indagine mi occupai di quella organizzazione della mafia turca che presentò i collegamenti con l'attentato al Papa lì proprio ebbi la prova documentale proprio che accanto ai traffici di droga, accanto ai traffici di armi esistevano delle contrapposizioni ideologiche apparenti superate da convergenze occulte che trovavano la loro spiegazione in rapporti di tipo massonico e con incroci che già all'epoca erano di tutta evidenza nella stessa chiesa conseguentemente questa problematica nel procedimento di Trento ebbe dei risvolti proprio processuali cioè furono processuali, io interrogai a Liagica e ne percepì l'infarcimento da parte di notizie false da parte dei nostri servizi, queste prove le ho raccolte personalmente il parallelismo con Scarantino ma questo è avvenuto per un episodio anche diciamo a livello geopolitico anche più importante perché il Papa rappresentava e rappresentò in quell'epoca l'elemento nuovo che avrebbe dovuto che sembrava predestinato a cambiare gli assetti del mondo e in effetti è avvenuto e conseguentemente il fatto che quelle convergenze fossero di carattere trasversale e fossero palesi ed evidenti su quelle si siano inserite delle attività di depestaggio o di depestaggio secondo i vari punti di vista ma oggettive ed erano connesse con tutti gli altri tipi di traffici e di commerci legali e illegali eccetera già quello fu un fatto di estrema importanza che si è trascinato in indagini che si sono svolte per la verità per lunghissimo tempo che hanno riguardato anche episodi che sono in vario modo collegati e che tutti sono rimasti un po' nell'ombra dimenticando che questi episodi costituiscono diciamo delle chiavi di lettura di fatti che vedono la loro genesi già 70 80 anni prima quando ci furono le apparizioni di fatima perché non sono casuali i fatti delle reiterazioni di attentati in nome di fatima fatima che è un nome arabo e quindi sintomo già di un valore che presenta una valenza sincretica cioè praticamente che ha dei valori diversi per diverse concezioni ideologiche e religiose che trovano la loro radice nell'antichità per me quello è stato un episodio fondamentale e io quello l'ho percepito subito addirittura acquisendo rapporti di polizia giudiziaria nell'83 cioè sto parlando esattamente della concomitanza di date che hanno visto insieme il sovrapporsi di aspetti investigativi che riguardavano assetti militari e assetti religiosi e politici ecco e quindi c'era un corpus unico che univa queste cose ecco e che ritrovo a Trapani nell'86 cioè subito dopo il mio forzato allontanamento da Trapani perché quando viene scoperto il centro scontrino al suo interno vengono scoperti i collegamenti con i soggetti che erano più vicini agli ambienti dell'Oriente retrostanti l'attentrino al Papa e quindi più vicini stiamo parlando dei lupi grigi di questo stiamo parlando beh è il solito discorso i lupi grigi rappresentavano e hanno rappresentato probabilmente rappresentano ancora una fazione estremista e quindi è la punta di un iceberg però rappresentavano una voce diciamo molto più vasta e importante una voce importante che era già sentito che avrebbe assunto stiamo parlando dell'ottanta in un futuro una maggiore importanza e cioè nel momento in cui si sarebbe verificata la interpenetrazione tra i popoli che si sapeva che il muro di Berlino doveva crollare cioè non è che sono dei fenomeni che sono venuti dall'oggi al domani che qualcuno con il piccone ha rotto il muro è una regia è stata una regia che ha diretto queste attività e quindi il rinvenire a Trapani le stesse identiche componenti e convergenze e beh anche questo io l'ho percepito subito quindi al cielo di scontrino vengono scoperte una serie di logge segrete massoniche vengono certamente e sono le uniche le prime e anche le uniche manifestazioni massoniche che anche processualmente si presentano in Italia in violazione della legge Anselmi che introdusse in Italia il reato di associazione segreta e che venne elaborato anche con pene diciamo un po' irrisorie rispetto alla sostanza dei fatti però almeno simbolicamente è stato creato come reato a seguito della scoperta della loggia P2 e questi fatti che si sono verificati nel 1900 sono stati palesati nel momento in cui è stato scoperto nell'aprile dell'86 che rimontava al più antico passato di Trapani e di Erice e d'Italia e si entra in un altro settore di approfondimenti ma che era presente comunque nella gestione di questo episodio che ha avuto un'importanza fondamentale a livello planetario perché ha avuto Papa Voitila ha avuto un'importanza determinante nell'abbattimento del Muro di Berlino e quindi nel subentro di quella fase successiva alla Guerra Fredda che ha arretto i primi 40 50 anni della storia posteriore alla Seconda Guerra Mondiale cioè noi dobbiamo distinguere alcuni periodi della nostra storia e dobbiamo cercare di inquadrare quelli che sono gli episodi che l'hanno segnata e che quindi costituiscono oggetto di quella programmazione di quella regia diciamo che va al di là dei tempi contingenti e al di là dei governi può essere i democratici può essere i repubblicani democrazia cristiana ecco quindi quella rimane la messa in scena quelle fanno parte della messa in scena dei ruoli temporanei svolti da chi cavalca il potere ecco ma che è ben difficile che siano a conoscenza siano gli attori reali del progetto superiore del progetto del potere mondiale questo è il discorso quindi io ho detto e ripetuto questa affermazione della quale sono profondamente consapevole di esattezza e cioè della esistenza di due storie noi siamo a conoscenza di una storia che è quella che ci è stata tramandata e sottoposta a volte anche in modo martellante per convincerci che la storia che viviamo è in un determinato modo in realtà non è così in realtà è uno spettacolo è una spettacolarizzazione di ciò che ci viene inculcato per convincerci che la storia sia in quel determinato modo la massoneria è il è quella il centro è quel diciamo così è quel eh centro organizzativo elitario le cui cognizioni e conoscenze sono ehm imputabili e rinvenibili in capo a un numero assai limitato di persone e che sono quelle che però di fatto eh sono quelle che condizionano eh il vero assetto e svolgersi della vita reale sul nostro pianeta e noi oggi credo che oggi 2020 queste che eh almeno io sulla mia pelle le ho vissute come ehm graduali passaggi eh di ehm evoluzione del mio pensiero però tratto da casi concreti e processuali cioè documentati documentati ecco quindi quasi un cambio di pensiero forzato dai fatti e dai documenti forzato spinto additato da fatti e documenti ehm eh e da pochi personaggi che hanno seguito questo tipo di ehm ehm di ragionamento come ehm parlo per esempio di eh Ferdinando Imposimato ecco lui era ehm ehm lasciando la magistratura è uscito anche un po' lui dall'ambito meramente ehm ehm legato ehm ehm alla processuale alla visione processuale del fatto criminale per passare al alla individuazione delle componenti storiche eh eh essenziali eh eh insite eh eh nei fari nei fari che ci vengono sottoposti quindi Imposimato percepisce e comprende l'esistenza di questo alto livello di regia esatto esatto anche lui lo intuisce con altre partendo da altre esperienze partendo da altri presupposti ehm incentrando l'attenzione ehm cioè nessuno può conoscere tutto ecco però noi abbiamo una occasione ehm che ci deve far riflettere molto perché noi eh viviamo in Italia e l'Italia nel mondo rispetto a tutti i paesi del mondo è eh il paese che ha visto più vittime eh di magistrati e eh eh pubblici funzionari eh uccisi nello svolgimento di funzioni e giornalisti cioè non esiste un altro paese nel mondo che presenti un eh uno spettro così vasto di soggetti che hanno cercato esercitando eh sotto diversi profili eh delle funzioni comunque di accertamento e di ricostruzione della storia eh di avere vittime sul campo quindi lei inquadra in questo ambito ecco e Fava Rostaglio Pecorelli Graziella De Palo Ilaria Alpi ma ne abbiamo avuto una enormità proprio perché perché eh 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 questo o fantasma che è rappresentato dal collante di carattere eh ideologico che caratterizza il nostro paese e che eh è un collante che tiene insieme delle realtà apparentemente contrapposte e che invece sono congiunte da eh eh tradizioni che esprimono il sovrapporsi di culture dalle più antiche della dell'umanità ad oggi ad oggi ad oggi ad oggi costituisce una chiave di lettura che è stata intuita o sfiorata da magistrati eh investigatori a volte politici eh a volte eh giornalisti che hanno o allargato diciamo così i propri orizzonti uscendo dalla interpretazione tradizionale dei fatti così come eh ho detto ci viene in qualche modo inculcato per allargarsi e su quegli aspetti eh eh che invece consentono la individuazione di componenti a volte estere in Italia che sono di determinante importanza e che non vengono colte adeguatamente eh da organi investigativi dall'informazione eh voi a volte per ignoranza voi a volte eh in buona fede eh io credo che a volte sia anche il malafede perché non è possibile io non ritengo eh concepibile che oggi che stiamo vivendo o o da un anno in Italia stiamo vivendo l'episodio della pandemia non si mette in evidenza da parte dei mass media che pur si occupano dalla mattina alla sera eh di illustrarci tutti gli aspetti che riguardano eh la pandemia di indicare e additare eh le famiglie e le dinastie che sono presenti in Italia straniere che eh sono le principali attrici eh nella gestione mondiale di tutto ciò che ruota attorno alla pandemia quindi stiamo parlando di Rockefeller i Gates eccetera eccetera eh Rothschild cioè stiamo parlando di soggetti che ehm fanno parte di coloro che eh vanno al di là degli stati vanno al di là delle alleanze tra i poteri vanno al di là delle multinazionali eh è potere è potere sul mondo è il potere che sta cambiando in questi eh ultimi mesi eh eh gli assetti planetari proprio ehm scegliendo delle date e delle modalità di azione che costituiscono l'ultimo passo di un procedimento inarrestabile per il semplice motivo che ehm è stato non non è altro che l'ultimo passo di un procedimento che eh vede nei passi precedenti rimontare le proprie origini eh eh al più remoto passato con una coerenza e con una eh limpidezza di eh finalità che è terrificante in un canale che in Grazie.